Sentivo il giornale radio di Rai Radio 1, Renzi è in vacanza attiva a Forte dei Marmi. Che cazzo è la vacanza attiva a Forte dei Marmi? Come fai a dire Renzi è in vacanza attiva a Forte dei Marmi? Parlato della vacanza attiva del Presidente del Consiglio, lei invece ha passato un'estate in campagna elettorale. Se uno ha a cuore i suoi figli e la sua gente non c'è Liguria, non c'è Trentino che tenga, ci si batte sempre comunque. Però abbiamo visto presente sui giornali e negazzevo per tutta l'estate, sente che le elezioni sono vicine? Non lo so, sento che intorno alla Lega è tornata tantissima passione e questo mi riempie di orgoglio. Un militante che pubblicamente rompe le palle è un altro militante, soprattutto se ha una carica, finisce fuori a calci in culo. Non abbiamo bisogno di gente che passa a te e qua a rompere le state, dovrà tutto se ha dei carichi di responsabilità e quindi queste cose non possono essere tollerate. È un discorso che vale al futuro, quindi chiunque romperà le palle lo farà fuori dalla Lega. Questa è una mossa in un certo senso contro Bossi che durante la vostra campagna elettorale aveva detto che reintegriamo tutti, anche i dissidenti. No, no, è una mossa che dice che siccome li avremo contro tutti, dalla grande stampa ai sindacati, probabilmente a Confindustria, alla stragrande maggioranza dei politici italiani, non possiamo permetterci divisioni interni che al momento fortunatamente ci sono, né vorrò che ci saranno. È una mossa alla Renzi? No, Renzi fa sempre le cose benissimo. Grazie.